No, è appunto questo che ci sembra assurdo. Non stiamo dicendo ovviamente che nel giro di nove giorni la magistratura possa aver concluso le indagini, sia potuta già arrivare a identificare i colpevoli, trovare i server, rimuovere i file dei server. Però avremmo voluto e lo vorrei anche adesso perché continuo a dire che sono le 17 e ancora non ho nessun aggiornamento come mi era stato promesso. Esatto, posso controllare anche in tempo reale. Così le avevano promesso? Avevano detto che avrebbero a questo punto oscurato. No, avevano detto che messi in fila tutti questi episodi che vi abbiamo raccontato, quindi oltre la violazione delle 30 caselle di posta e compresa la gravità dell'attacco avrebbero fatto una ricognizione su tutte le attività investigative messe in campo e ci avrebbero dato un report, un resoconto. Siamo arrivati a questo punto, intendiamo muoverci in quest'altro, ovviamente senza violare quelli che sono i profili di riservatezza delle indagini, ovviamente del segreto istruttorio, però quantomeno dire signori stiamo lavorando per voi. E questo ad oggi non c'è. Quindi noi, il punto vero di questa conferenza stampa non è il fatto che noi ci sentiamo minacciati perché abbiamo inconfessabili segreti della cui pubblicazione abbiamo paura. Quello che troviamo inconcepibile e incredibile è il silenzio mediatico sulla portata di un attacco del genere nei confronti di un movimento politico, del peso elettorale che i cittadini ci hanno riconosciuto. E dall'altra parte una sorta di abbandono da parte di quelle che sono le istituzioni preposte a tutelare, indipendentemente dal fatto che noi siamo un movimento politico, comunque tutelare i diritti dei cittadini che sono stati violati. Una domanda, ma hanno rubato...